Riflettori puntati, ancora una volta, sui mancheschine e in particolar modo sulla foto super hot che Victoria De Angelis ha condiviso nella sua pagina Instagram lasciando senza parole l'ueba questa volta, per a quadrato, ecco che per lei arriva la censura? Il 2021 un anno magico per i maneschine che hanno avuto modo di fare conoscere il loro talento a tutto il mondo, diventando cosa una delle rock band più ascoltate in streaming e collezionando una lunga serie di traguardi che fanno da apripista ad una carriera tutta in salita per loro. Nel frattempo, per a quadrato, ecco che i vari membri della band sono concentrati anche su altri progetti che li vedono protagonisti in prima persona. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dal successo riscosso singolarmente sui social, dove sono considerati delle vere e pro. Non a caso, ecco che oggi l'attenzione dei media si concentra sulla bassista Victoria la cui foto ho tascosso l'animo dei fan e del popolo dei social. Victoria De Maneskin dopo il successo Fin dal loro esordio musicale a X-Factory Maneskin hanno sempre mostrato di avere una marcia in pie e quel talento fuori dal comune che, successivamente, gli ha permesso di conquistare la scena in campo internazionale, complice anche la vittoria alla Eurovision Song Contest. Quanto detto, inoltre, ha fatto in modo che i riflettori dei media internazionali si concentrassero su tutti i membri del rock band che a oggi si sente più a libera che mai di esprimere la loro arte e anche il loro modo di essere. A rompere il silenzio in tal sento stata proprio Victoria De Angelis parlando di sa diritti d'autore stessa in una intervista a Ella ha dichiarato, mi ritengo una persona trasparente, a mio agio con tutti i miei spigoli. Le indosso in scena, trucco e costumi, come le luci e il palco, contribuiscono a creare un immaginario, la foto da censura per la bassista. Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell'attenzione del web troviamo la pubblicazione di uno scatto super hot che mostra appunto Victoria De Maneskin come mai vista prima da Oraha. La bassista, dunque, ha condiviso nella sua pagina web uno scatto realizzato durante uno shooting fotografico con tanto di topless levemente censurato e una sensualità alle stelle e una foto che ha scosso gli animi dei fan della musicista che sono rimasti travolti dalla sua ineguagliabile bellezza e come detto poca anzi, spiccata sensualità super rock. Grazie a tutti!